Bombardati di like questo video, dobbiamo arrivare almeno a mille mi piace per il primo trofeo della Juve di Pirlo e il primo trofeo di Pirlo d'allenatore, a parte gli scherzi ragazzi davvero avevamo bisogno tutti noi di questa partita dopo la brutta sconfitta contro l'Inter e dopo anche le pesanti discussioni che ci sono state fra gli stessi tifosi della Juve credo che anche questo canale sia stato luogo davvero di una bella discussione, di un bel dialogo, di un bello scambio di opinioni pacifico fra persone che hanno un'unica passione e che quindi cercano di condividere insieme questa passione se non l'avete visto ve lo lascio qua nelle schede, è uno sfogo personale che ha scatenato praticamente 600 commenti sono contento perché significa che vi ha provocati, vi ha toccati nel modo giusto e fa bene perché come in tutte le famiglie a volte arriva il momento in cui bisogna litigare in cui bisogna litigare, in cui bisogna alzare la voce, farsi sentire per esprimere le proprie idee, i propri concetti, i propri pareri per poi però riabbracciarsi più forte e ripartire insieme, più compatti e questa sera devo dire, ho anche seguito un po' l'attesa di questa partita sui social e ho notato un'attesa diversa per questa partita il popolo della Juve non aveva l'ossessione del trofeo il popolo della Juve questa sera voleva la vittoria per noi perché ce lo meritiamo, perché ci stanno dando tutti contro e giustamente dopo tanti anni di successi non vedono l'ora, non vedono l'ora di vederci al tappeto non vedono l'ora e visto che c'è già quella gente lì che pensa a sotterrarci al primo errore allora noi dobbiamo fare ancora più spogliatoio come si dice nel gergo dobbiamo ancora fare più muro dobbiamo essere ancora più compatti e quindi sono veramente contento per questa vittoria perché ne avevamo bisogno quindi mi raccomando almeno mille mi piace e commentatemi nei commenti ditemi secondo voi che è stato il miglior in campo o anche cosa vi è piaciuto di più di questa Juve cosa è piaciuto a me? cos'è la cosa che mi è piaciuta di più? il cuore, il cuore ragazzi perché non era facile portare a casa questa partita non era per niente facile dopo tutto quello che è successo dopo tutte le critiche questi ragazzi si vedeva non erano liberi di testa ma vedrete che questa vittoria sarà quella giusta sarà la chiave giusta per darci anche quella fiducia che è il fattore fondamentale in un percorso di crescita come quello che sta facendo questa squadra serve fiducia perché la squadra non è scarsa ricordatevi questa squadra non è scarsa ha bisogno di fiducia e ha cominciato un percorso di crescita e noi da tifosi dobbiamo avere il desiderio di goderci questa crescita per arrivare più in alto possibile ovunque in tutte le competizioni primo trofeo portato a casa primo obiettivo della stagione raggiunto OneFootball mi stavo dimenticando perché vi sto leggendo qua le notifiche le statistiche non so parlare stasera le statistiche della partita passate qua sotto in descrizione scaricate OneFootball io cosa voglio fare con questo video il bianco e il nero le cose positive le cose negative attraverso i numeri perché come vi ho già detto attraverso le statistiche uno può confermare quello che magari ha visto in campo le sue sensazioni ma può anche magari ribaltare un po' la propria situazione la propria visione della partita e allora andiamo a vedere vi ricordate cosa vi dissi i due numeri che ho sottolineato post Inter-Juve possesso palla e percentuale dei contrasti vinti possesso palla ci siamo più o meno 56,4% contro l'Inter eravamo intorno al 52% segno che la Juve vuole dominare in tutti i campi qualsiasi sia la partita l'altro ve lo ricordate a mio avviso ancora più importante percentuale dei contrasti vinti contro l'Inter 37% Juve 73% Inter questa sera ragazzi 77% Juve 63% Napoli 77% Juve segno segno che la scorsa volta non è stato un problema adesso non li vedete ma me li sto indicando non è stato un problema di piedi o di tecnica che quelli non mancano alla Juve è stato un problema di questa che l'Inter è entrato in campo con la voglia di mangiare l'erba la Juve è entrata in campo non si sa come questa sera la Juve è entrata in campo con la voglia con la voglia il desiderio il desiderio più forte del proprio avversario di portare a casa la vittoria davvero importante sono contento sono contento perché ne avevamo bisogno non è tanto per la Supercoppa non è per il trofeo non è perché adesso posso andare a sfottere i napoletani assolutamente è per noi stessi perché ce lo meritiamo credo che la conclusione di questa partita sia la stessa che a cui siamo giunti io e Luca con questo scambio di opinioni che spero abbiate seguito per cercare di capire qual è il problema per cercare di capire perché alcuni tifosi ci credono a questo scudetto a questa stagione a questo progetto e altri non ci credono più e credo che stasera sia la fotografia perfetta questa squadra può vincere con chiunque ma questa squadra purtroppo ha dato troppo spesso la sensazione la percezione di poter perdere contro chiunque ma è il bello delle rivoluzioni e quindi noi tifosi dobbiamo avere il coraggio la voglia il desiderio di goderci questa stagione questo momento e di accompagnare la squadra in questo percorso di crescita senza ossessioni solo con un cuore grande un cuore grande verso la propria squadra iscriviti al canale